E' finita ieri la latitanza di Sebastiano Pelle in fuga dal 1995 ritenuto ai vertici della cosca Pelle Vottare di San Luca dopo la morte di Antonio Detto Gambazza e dopo i tanti arresti che hanno decimato l'omonima famiglia andranghetista. Il presunto boss, 57 anni, da 16 al riparo dalle manette, non è stato trovato su un monte sperduto o in un bunker fuori città. I carabinieri hanno beccato Sebastiano Pelle al porto di Reggio Calabria. Era solo, fermo, all'impiedi, nel buio, in attesa di un contatto forse o a rimirare il mare magari, non sappiamo e lo devono ancora scoprire anche gli investigatori. Sono stati proprio gli uomini dell'arma a notarlo ieri sera dopo le 8. Era un giro di perlustrazione della zona, da tempo tenuta sotto controllo perché già c'erano dei sospetti sull'area portuale come luogo di incontri e scambi particolari. Infatti, notata la presenza sospetta di una persona che stazionava in un angolo buio della banchina, lato sud, vicino all'ufficio Dogane, i carabinieri si sono avvicinati e guardando l'involto da più vicino hanno riconosciuto i tratti somatici della titante, aiutati dall'aspetto quasi immutato rispetto alle foto segnaletiche di quasi 20 anni prima. Subito fermato, trovato senza nulla, documenti, telefoni o armi, Sebastiano Pelle non ha potuto far altro che confermare la sua identità ai militari e consegnarsi senza opporre resistenza. Alla cattura del latitante di San Luca, inserito nella lista dei 30 ricercati più pericolosi d'Italia, si è arrivati, dicono investigatori inquirenti, monitorando costantemente tramite GPS e pedinamenti alcuni presunti fiancheggiatori, non ben individuati dai carabinieri vicini a Sebastiano Pelle. Da qui l'attenzione in particolare sul porto di Reggio e poi l'arresto del superlatitante, che ad oggi deve ancora scontare una pena di 14 anni di reclusione. Su di lui pendono le accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di armi e sostanze stupefacenti, non è mai stato indagato per reati mafiosi. Il luogo e le modalità di arresto confermano ancora una volta, però, la sicurezza che questi personaggi vantano. Sebastiano Pelle stava in pieno centro di Reggio a passeggiare, senza che alcuno lo disturbasse, sintomo dell'unitarietà di intenti e accordi dei clan dell'Andrangheta Regina. Inoltre, la cattura di Sebastiano Pelle in zona e non lontano dalla Calabria o dall'Italia è indicativa del fatto che il personaggio, spiega Nicola Gratteri, ricopra ruoli di primissimo piano organizzativo nell'Andrangheta e nella cosca d'origine, quindi l'impossibilità di allontanarsi, altrimenti ieri sarebbe stato da tutt'altra zona dell'emisfero, lontanissimo dalla sua San Luca.